Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Sì, attento che non faccio un video Oggi io voglio vedere un tutorial per fare un trucco Scusatemi Un make-up Qua abbiamo tutti i trucchi Calcolate che io ne salterò un po' Quindi Iniziamo prima dal correttore Scusatemi Va bene Ok, qua ho lo specchio Quindi se no guardo qua sto guardando lo specchio Perché è uno specchio Allora, visto che sono comparsi anche Due brufoli, qua li metto qui Se non ho Due canini perché Non lo so Perché se non lo sapete Se lo sapete Io mi trucco nei video Quando li faccio perché devo sembrare bello A questo Si sponforizzo io Questa è il 04 Di Deborah Milano Ok, dopo aver messo il correttore Il correttore Sfumiamolo Non so, oggi non parlo bene Due parti che non ho mai parlato bene Però Cioè stavolta parlo proprio Con un italiano Che mia zia Mi strafoca Ok, ancora i due canini Però Non si vedono Ok, dopo L'illuminante Oddio quasi è finito L'avevo da comprare Questa è di Questa è di Brukar Si, lo so Non sono delle macchie conosciute, però me le hanno tutte regalate, anche molte cose me le hanno regalate, perché di solito non mi compro i trucchi, però mi compro i gloss, non mi compro i trucchi, sacri. E' un tester, ho rubato un tester, questo qua che è, non so se lo metto dopo, ho messo il blush, sentite lo stappo, è troppo buono, ah no non è un rossetto. Eui, 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 eui. Oggi ho, questo è tra la bocca. ok rilassamento porteggino maialino che ti chiama rispondi mi sento solo mangi il tuo cazzino si faccio con faccio tre righe qua non fate cazzo faccio così e guardate sembra che non ho fatto niente ok siamo anche ora avrò sconosciuto vabbè mangi il tuo cazzino quando senti il mio rotino ah ha aggiatto sull'occhio ok guardate che bei occhi ok ok adesso facciamo il pane augurate che questo dovrebbe essere il make up della festa della comune di mio fratello ok un attimo lo scotch oi che direttamente ci falta cosa ci fa con lo scotch lo scotch cosa ci gosto ok un attimo ok sono riuscita dopo 32 anni dove sei? sto cercando da questa mattina non fare cretino non scherzare con il fumo se mi cazzo non vuoi non mi ricordo più la canzone che mi ha fatto fare intenso cresco la cuna fatto adesso iniziamo a fare l'outfit è tutto rosa a parte le scarpe che sono bianche la borsetta che è bianca il resto è rossa come il mio make up guardate quanto sono bella cioè il make up è bello io sono brutta ok calcolate che sto seguendo tutto dalla telecamera quindi non so il risultato finale però io farei così che bello mamma mia la gran sarà una big up artista il mio telefono scusate vuole sentire anche la suoneria fa così ciao io sono cine maianino che ti chiama rispondi mi sento solo mangi il tuo calzino quando senti il calzino è il mio nonno è tornato è andato a prendere l'alcol no scherzo 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 odio quella canzone come se glitch la canzone ce l'odio perché la cantante cioè era la mia idola la piccolina avevo pure l'app l'ho disinstallata perché se ancora ce l'avevo e la usavo cioè non lo sapevo che aveva fatto questo cavolo di cambiamento cioè adesso lei tipo così un attimo basta oi metrò e scusate mi sono empattando un attimo non mi sono presentata mi chiamo benedetta o ce l'ho detto che non sacci troppo bello comprate sti glitter non so dalla mano e charlottiguri charlottiguri troppo bello guardate troppo bello troppo bello troppo bello troppo bello che schifo adesso ma che dove adesso cosa devo fare vabbè che mi è deciso 12 minuti che sto frustrando mamma mia adesso attacca il rossetto guardate quanto è bello questo questo mi ha preso dal don mercatino guardate ok va questa di destra non fa per niente rumore un po'